Sono tante le attività svolte nel 2016 dalla Commissione Affari Generali del Comune di Gela e tante altre sono in agenda per l'anno che è appena cominciato. E' quanto emerso questa mattina durante l'incontro che si è avuto con i cronisti nella sala dei gruppi consigliari, obiettivi raggiunti con grande impegno, identico impegno che sarà messo in campo per le altre iniziative in calendario. Abbiamo trattato una serie di regolamenti tra cui il gonfalone, il regolamento cimiteriale, l'affidamento degli ortubani, dei beni confiscati alla mafia, la figura del nonno vigile, la presenza dell'ispettore ambientale, la videosorveglianza. Sono una serie di regolamenti che presto arriveranno in consiglio comunale quindi aspettiamo con ansia l'approvazione di tutti questi regolamenti. La Commissione ha potuto presentare alla nostra città tutti i lavori svolti fino ad oggi, tutti i programmi e progetti che riguardano appunto i regolamenti che riguardano la nostra città. Sono stati affrontati appunto con grande partecipazione non solo da parte della Commissione ma di tutte le persone che sono state chiamate per poter dire la loro appunto. Possiamo dire che la nostra Commissione è una Commissione partecipativa non solo da parte dei propri componenti ma da parte anche di altri organi appunto della città e non solo da parte della nostra amministrazione. Mi piace ricordare che per quanto riguarda il regolamento delle micro e piccole imprese sono intervenuti tutti gli operatori economici della nostra città. Per gli incarichi legali abbiamo ascoltato gli ordini degli avvocati, per i sedimi stradali ad esempio abbiamo ascoltato parte appunto la GELAS e altri operatori che si occupano di questa materia. Quindi siamo lieti veramente per tutto quello che abbiamo fatto e molto di più faremo in quest'anno per la nostra città e per il bene appunto della nostra città. Il Presidente della Commissione Affari Generali Giuseppe Guastella. Questa Commissione ad oggi si pregia di aver appunto rilasciato diversi pareri in merito a numerosi regolamenti, ha sentito diverse associazioni di categoria e cittadini sia liberi che associati per appunto cercare di portare avanti delle iniziative di interesse appunto popolare. E' importante parlare appunto di un regolamento che da poco è stato appunto redatto in collaborazione con l'amministrazione comunale, il regolamento sugli incarichi legali dove per la prima volta si apre appunto ai patrocinatori legali insieme a tantissime altre novità delle quali già abbiamo parlato negli scorsi giorni. Altri regolamenti ai quali questa Commissione appunto ha partecipato a darne appunto parere è il regolamento sui beni confiscati dalla criminalità organizzata, l'ispettore ambientale volontario, il regolamento sulle strisce blu e quant'altro. Salvaguardia dell'ambiente a 360 gradi è l'obiettivo della giunta municipale di Gela, l'anno che è appena cominciato dovrà dare i suoi frutti e in quest'ambito si inseriscono alcune novità, lo dice l'assessore comunale Simone Siciliano. L'anno nuovo regole vecchie per la differenziata, continuare a differenziare i rifiuti con maggiori ingentivi per i cittadini, nei prossimi giorni verrà avviata presso il centro comune di raccolta la pesatrice dei rifiuti che permetterà ai cittadini di ottenere dei bonus tanto più alti quanto più è la capacità di differenziare i rifiuti e di portarli presso il centro comune di raccolta. L'assessore Siciliano entra nel merito di come funzionerà il servizio. Fondamentalmente verranno pesate le frazioni differenziate, quindi plastica e metalli, vetro, carta e cartone e per il peso verranno associati dei pundeggi che poi permetteranno di ottenere dei buoni spesa da scombutare in un certo senso relativamente alla quota e all'atari che viene pagata. Un servizio rivolto ai privati che guarda alle attività commerciali. Ovviamente sì, con un maggior riguardo rispetto ai cittadini che è la parte su cui si deve sensibilizzare maggiormente. Aumenta il numero dei parti effettuati al reparto di ginecologia e ostetricia di Gela nonostante ad oggi l'azienda sanitaria provinciale non abbia ancora attivato il secondo livello e non abbia nemmeno attivato l'utin. La denuncia è del portavoce del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese Filippo Franzone e l'emblema si regge in una nota di una Gela coraggiosa che si ribella alla crisi e alla stessa Aspenissena. Genitori nonostante tutto fiduciosi verso il futuro a dispetto di un contesto economico-sociale tutt'altro che confortante e contro le manchevolezze che l'Aspenissena reitera nei confronti del nosocomio gelese. Sono in tutto 937 nuovi nati presso l'ospedale gelese, comprese peraltro le nascite di alcune partorienti provenienti da altri centi appartenenti ad altre ASP. Oltre 600 sono i nuovi nati di Gela, a dimostrazione che le mamme gelesi preferiscono dare alla luce i loro figli in città. I nuovi nati nei comuni di Gela, Nescemi, Mazzarino, Butera e Riesi sono 1149. Il decreto assessoriale del 2 dicembre 2011 sul riordino e razionalizzazione dei punti nascita prevedeva che presso l'ospedale di Gela fossero 1454 i parti in un anno. Cosa impedisce il raggiungimento di questa cifra? A meno di negare l'evidenza, la risposta è sotto gli occhi di tutti, e cioè la totale disattenzione dell'Aspenissena e dei manager che si sono succeduti negli ultimi 5 anni, dice Franzone. L'Utin è rimasta la grande promessa mancata dei manager ASP da Virgilio a Iacono. L'ultimo annuncio prevedeva l'assegnazione dei lavori per giugno 2016, oggi non se ne intravede nemmeno l'ombra. Mancano sempre soldi per Gela, nel contempo si continua ad investire nell'ospedale al centro dell'area più disabitata della Sicilia, quale appunto quella nisseno-ennese. Non passa mese in cui non iniziano nuovi lavori, nuove strutture, e dalla PET-TAC alla seconda UFA, spostamento di reparti per creare il polo oncologico a San Cataldo, parcheggi e tanto altro ancora, mentre a Gela si attendono ancora strutture individuate nel 2010. Ginecologia e ostetricia. L'attivazione di secondo livello impone all'ASP di adeguare strumentazione personale agli standard imposti dall'assessorato alla salute. Invece, ancora oggi, niente strumentazione, niente personale. L'attuale pianta organica del reparto conta un primario, 11 medici, 12 ostetrici, pari alla pianta organica del Santeria di Caltanissetta, che però è un centro di primo livello con un numero di nascite notevolmente inferiore, a cui si deve associare anche il personale del punto nascite di Mussomeri, mentre i punti nascita di Mazzalino e Niscemi vanno a chiudere. La previsione per il reparto gelese nel 2011 era di un primario, 17 medici, 18 ostetrici e 6 anestesisti. Ben 18 professionalità specialistiche in più. Una situazione in cui dispiace, rimarca Franzone, che le forze politiche gelesi, dal presidente della regione al trentesimo consigliere comunale, passando attraverso i deputati all'ARS, non si accorgano di come Gela venga sempre penalizzata in ambito ospedaliero. La responsabilità della gestione manageriale dell'Aspenissena è evidente, ma non individuarne una complicità della stessa classe politica gelese, chiude Franzone, indifferente e latitante sulla questione, sarebbe come mettere la testa sotto la sabbia. Grazie alla Condello. Si chiude un anno questo lato di successi per l'AIRC, parliamo del 2016, ma è chiaro che i propositi per l'anno nuovo sono ancora importanti, perché voi lavorate sul territorio oramai da tanti anni e i risultati finora sono stati conseguiti. Noi lavoriamo da oltre 25 anni, come ben sa. I risultati per il 2016, devo dire che nonostante le crisi economiche che attanagliano anche la nostra città, sono positive. Abbiamo raccolto fondi per circa 24.000 euro, compresa l'ultima raccolta dei cioccolatini, grazie ai club service che ci hanno dato una mano, a delle imprese, l'Ascot per esempio ci ha dato una grande mano d'aiuto, e anche ad associazioni come quello di Entimo e Antifemo, che organizzando questo evento al carcere ha fatto anche una raccolta fondi che è devoluta ai LIRIC. Quindi in memoria abbiamo avuto pure circa 500 euro, e così abbiamo raccolto 24.021 euro. Questa è una grande soddisfazione, perché è vero che lavoriamo, però i risultati ci sono, la ricerca va avanti, Gela è fra le città anche che contribuisce in maniera, diciamo, congrua, e quindi siamo contenti di questo risultato. Anche perché poi quando si parla di solidarietà, Gela è sempre in prima fila. Sì, questo è senza dubbio ed è qualcosa che ci tocca particolarmente. Dicevo che nonostante la crisi, la gente è sempre sensibile alle manifestazioni di solidarietà. E quindi grazie alla città di Gela, grazie a tutte le socie, grazie alle mie amiche che anche loro si prodigano tanto per raccogliere fondi, perché sappiamo che l'AIRC con questi fondi sostiene la ricerca, ma soprattutto i ricercatori che hanno la loro continuità nel programmare una ricerca scientifica. Questo è importante. E alla fine del 2016, l'anno che ci ha appena lasciato, è arrivato per lei un bel regalo, un nuovo incarico. È arrivato personalmente a me perché rappresento la delegazione di Gela. Sono stata proposta dal presidente regionale al Consiglio nazionale come consigliera, quindi farò parte del Consiglio regionale della Sicilia, naturalmente. Questo è qualcosa che gratifica non me personalmente, ma tutta la delegazione. Quindi io voglio fare un appello ai giovani, voglio fare un appello alle signore di avvicinarsi all'AIRC, ai giovani, perché abbiamo bisogno di giovani nella nostra associazione. Ci sono dei crediti, soprattutto per chi vuole intraprendere questa carriera di medicina e darci una mano d'aiuto. Non c'è tanto da lavorare, non c'è quota da pagare, però abbiamo bisogno di linfa giovani. Noi ormai i quarantenni siamo arrivati a 60 e oltre, perciò dobbiamo passare anche il testimone ai giovani. Stato di calamità naturale per i danni causati dal gelo all'agricoltura lo ha chiesto al governo regionale la giunta comunale di Miscemi retta dal sindaco Francesco Larosa. L'ondata di freddo polare che negli ultimi giorni si è battuta, tra l'altro, nell'Interland, nel territorio niscemese, ha causato danni irreversibili all'agricoltura ed in particolar modo alle piantagioni di carciofo e di ortaggi coltivati a pieno campo. Le gelate degli ultimi giorni hanno infatti compromesso e danneggiato le produzioni di carciofo ed orticole. Non solo abbiamo chiesto noi come insieme, ma abbiamo invitato tutti i territori limiti a fare la stessa cosa, cosa che già hanno fatto. Proprio stamattina mi sono sentito con il sindaco di Vittoria che sta convocando per giornalenti un forum per quanto riguarda i sindaci del territorio e tutti assieme cercheremo di portare avanti. qualcuno ancora pensa che questo territorio va lasciato in mano a nessuno, si sta sbagliando. Questa volta non ci fermeremo, abbiamo l'esigenza di portare avanti queste richieste e sono convinto che ci ascolteranno. Se fossi stato nella persona della deputazione o di chi in questo momento amministra la nostra regione Sicilia, mi sarei premurato già a predisporla io, la richiesta di stato di calamità naturale. L'agricoltura, rimarca il sindaco, costituisce per le famiglie della città la principale risorsa economica e sono tante le aziende agricole produttrici di carciofi e di prodotti orticoli coltivati a pieno campo che negli ultimi giorni continuano a segnalare ingenti danni alle produzioni. La giunta comunale ha adottato tutti gli atti per i necessari supporti agli agricoltori danneggiati. Quello che è successo è straordinario, siamo rimasti senza nessuna cultura, tutta quella a pieno campo è stata perduta, anche il sottoserra è stato compromesso e si parla di una calamità straordinaria, questo non si vedeva dagli anni 60, bisogna correre ai ripari immediatamente se no qua c'è il rischio della desertificazione perché andremo via dalla Sicilia. Il sindaco lancia un invito ai produttori di carciofo e ai titolari di aziende agricole della città che hanno subito danni alle produzioni. Immediatamente prendete i moduli, andate a fare le vostre richieste alla condotta agraria perché poi bisogna valutare, più siamo meglio è, funziona in questo modo, non c'è alternativa, dopodiché la politica dovrà fare il suo corso. Caltanissetta diventa polo sanitario d'eccellenza assieme a Palermo, Catania e Messina, questa la novità che arriva con la rimodulazione della rete ospedaliera. Dopo anni di attesa dunque gli ospedali riuniti, Sant'Elia e Maddalena Raimonti vengono riconosciuti come hub, ovvero come struttura sanitaria di primo livello altamente specializzata che oltre le unità operative di base prevederà le unità operative complesse quali chirurgia plastica, chirurgia toracica, il potenziamento di neurochirurgia e chirurgia vascolare solo per citarne alcune. L'ospedale Vittorio Emanuele di Gela diventerà invece Spock assieme all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e l'ospedale riunito di Sciacca e Ribera. Sempre secondo la rimodulazione della rete ospedaliera, Mazzarino è stato riconosciuto come ospedale di aria disagiata assieme a quello di Mussomeli, mentre Niscemi è stato indicato come ospedale in zona a rischio ambientale. Abbiamo lavorato molto per ottenere questo riconoscimento per quanto riguarda l'ospedale di Caltanissetta, quale hub, quindi quale ospedale di riferimento per un'area molto più vasta rispetto all'area provinciale. E dico che abbiamo avuto questa grande soddisfazione di vederlo riconosciuto. Ovviamente le componenti che entrano in campo per il riconoscimento di un hub regionale sono diverse. La prima componente è la storia di questo ospedale. La seconda componente è la localizzazione dell'ospedale che è una localizzazione estremamente centrale per la Sicilia, quindi facilmente accessibile da tutte le aree del centro Sicilia. E poi vi sono delle componenti che sono componenti che derivano dall'attività che è stata posta in essere da questa direzione strategica. Poi vi è una quarta componente che è una componente estremamente importante e quella azione che abbiamo fatto a livello degli organi centrali dove abbiamo trovato il massimo supporto da parte della Presidenza della Regione e dell'assessore che hanno recepito le nostre indicazioni tecniche e le hanno tradotte in un atto politico che sicuramente gratificherà l'intera provincia. Io andrò a vedere qual è l'organigramma che ci daranno, però penso che non sarà modificato quell'organigramma che ci avevano provosto dove noi vediamo e troviamo la neurologia a Gela struttura complessa, l'Otorino a Gela struttura complessa, l'Oculistica a Gela struttura complessa e poi il mantenimento dell'Utin che è anche questa una disciplina che è al di là del territorio servito esclusivamente da Gela perché servirà a un territorio ben più vasto. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi domenica dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fonde di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. La grave crisi occupazionale che si registra a Gela deve essere monitorata con costanza al fine di giungere ad una soluzione immediata. Non c'è più tempo da perdere, lo dice il Presidente del Consiglio Comunale Alessandrasia. Le istituzioni devono fare la propria parte ed è importante confrontarsi ed è per questo motivo, dice il Presidente della Sisa Civica, promuovere incontri, tavoli tematici con gruppi di lavoro specifici. Il Consiglio Comunale per questo recentemente ha voluto fortemente la costituzione di un gruppo di lavoro al quale fanno parte tutti i consiglieri capigruppo del Consiglio Comunale che vede presente anche l'amministrazione. Questo è un momento epocale molto importante per la nostra città perché sono in arrivo e siamo in attesa dei finanziamenti per il nostro territorio come appunto il Patto per il Sud, lo stesso protocollo d'intesa ancora da attuare e le stesse compensazioni minerali. Per questo motivo è stato creato questo gruppo di lavoro tematico che vedrà i consiglieri comunali che terranno in maniera molto stretta l'amministrazione per avere informazioni sempre più aggiornate per dare risposte a questo territorio martoriato da una massiccia disoccupazione che purtroppo vede coinvolti non solo i giovani in cerca di lavoro e quindi di creare il loro futuro ma anche padri di famiglia che devono fare i conti con le spese pronto familiari. E al tavolo parteciperanno anche gli operai che hanno perduto il posto di lavoro? No, per quanto riguarda invece gli operai, lo scorso Consiglio Comunale una massiccia rappresentanza dei lavoratori è stata presente in Consiglio dove ha chiesto ad alta voce quella che è la costituzione di un tavolo dedicato a loro e dedicato appunto alle problematiche che riguardano i lavori dell'indotto. Questa attualmente è inserita all'ordine del giorno nel prossimo Consiglio Comunale riguardo alle mozioni e insomma faremo i conti con questa mozione e quindi la creazione di un ulteriore tavolo. Un tavolo aperto anche agli imprenditori? Attualmente vede coinvolti i capi gruppo e l'amministrazione. Oggi abbiamo permesso l'ingresso anche all'Associazione Nazionale Costruttori Edili che con molto piacere devo dire ci ha inviato una nota dove ci ringraziava e ringraziava il Consiglio Comunale per questa lodevole iniziativa e ha chiesto di partecipare. Quindi abbiamo visto il loro ingresso e colgo anche l'occasione per fare un appello a tutti i rappresentanti dei lavoratori o dei datori di lavoro e quindi altre associazioni e organizzazioni che se vogliono entrare a far parte di questo gruppo di lavoro e dare il loro contributo per noi sicuramente è un arricchimento importante perché è necessario in questa fase quello che è un coordinamento di tutte le risorse presenti nel nostro territorio. A Gera ultimamente è stata avviata un'iniziativa per compattare il centrodestra. Un centrodestra compatto per arrivare a cosa? Ma intanto è ingommiabile il lavoro che sta facendo il commissario cittadino, l'onorevole Federico e i dirigenti del direttivo provinciale, appunto Carfir, Inzivillo e non ultimo nei prossimi giorni ci sarà l'ufficializzazione anche di Eugenio Catania. Io credo che il centrodestra a Gela abbia la necessità di combattarsi per esprimere una politica appunto in linea con quello che è il pensiero del centrodestra in generale. Certamente il nostro interesse è quello di una Forza Italia sempre più presente, sempre più a disposizione e sempre più vicina alla gente. Per cui diciamo che il progetto di un centrodestra unito è compatibile con un ragionamento generale ma per quello che a noi concerne ci interessa appunto è lavorare per la nostra Forza Italia dove devo dire ci sono delle adesioni importanti e grande partecipazione. Cosa contestate all'amministrazione comunale messinese? Io credo che l'amministrazione comunale debba rendersi conto di una cosa che amministra la città più importante della provincia. Io penso che non appena si renderà conto di questo capirà quanto sia importante impegnarsi ad essere presente tra la gente e risolvere problemi gravissimi soprattutto dal punto di vista occupazionale di cui nei prossimi mesi noi ci attiveremo anche con delle manifestazioni importantissime. C'è un problema che riguarda l'occupazione, cioè in merito alla chiusura dello stabilimento. Forza Italia quali progetti ha per arginare questo problema? Forza Italia, dicevo appunto questo, Forza Italia sta organizzando un convegno di portata nazionale attraverso anche delle serie sindacali che saranno presenti nei prossimi giorni e nelle prossime settimane stabiliremo la data dove coinvolgeremo attraverso le parti sociali tutti quelli che sono gli attori principali a cominciare dall'amministrazione comunale appunto per affrontare questa tematica dell'Eni che non può continuare ad essere una favola infinita e che deve trovare assolutamente una soluzione. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a conoscenza di quello che accade a Gela ci vediamo proprio alla chiusura dello stabilimento. Cosa vi ha detto? Io credo che l'importanza di Gela sia appunto da portare anche al tavolo del Presidente Berlusconi proprio perché ha vissuto sempre da vicino questa problematica. Padegoltraro, un nuovo incarico prestigioso e importante nel ricordo del suo predecessore Monsignore Grazio Labbiso. prestigioso certamente ma anche impegnativo perché c'è da portare avanti quello che già i miei predecessori a partire da Monsignore Grazio Labbiso hanno realizzato a favore di questa comunità sia ecclesiale come anche sociale. Speriamo di poter, che questi progetti possano proseguire con la collaborazione di tutti. Qual è stato il suo primo pensiero dopo la nomina ricevuta dal Vescovo Gisana? Anzitutto quello di pregare per la comunità perché mi sento pastore quindi mandato a prendermi cura di questa porzione del popolo di Dio che il Signore mi affida attraverso il Vescovo. e poi di poter avere attenzione, cura, premura per tutti quelli che possono essere le necessità degli uomini, dei miei fratelli e sorelle nella fede in particolare per i poveri, i sofferenti, i bambini, i giovani e così via e le famiglie. E' come se questa città ce l'avesse le ali tarpate. Per volare di cosa realmente è bisogno? Ma io credo che dovremmo un po' collaborare tutti, insomma assumerci tutte le nostre responsabilità. Noi come Chiesa e penso che in comunione con i fratelli Presbiteri stiamo insomma interessando una lettera, il Vescovo e noi alla città. Poi la responsabilità anche da parte di coloro che insomma amministrano la città ma anche imprenditori e le singole persone, insomma tutti impegnarsi a favore di questa città. Se collaboreremo insieme saremo anche capaci di volare alto. Fare rete allora? Sì, fare rete certamente. Ecco, parlando invece dei giovani, considerato che lei ha contatti con i giovani, cosa le chiedono i giovani? Cosa le chiedono? Assolutamente di essere ascoltati e poi di avere fiducia in loro. E' una chiesa aperta a tutti? Sì, sì, è una chiesa aperta a tutti, sì. Aолie Aolie 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 Grazie a tutti.